Gli atleti, gli allenatori sono dei testimoni, sono degli esempi, soprattutto per i giovani e loro hanno una grandissima responsabilità di dare appunto un esempio positivo. Per questo noi ci sforziamo, il Gran Galà dello Sport, il Premio Fair Play, per quello che può fare, ci sforziamo di dare un esempio positivo. Da Tiago Motta a Gianni Bugno, da Andrea Gianni ad Andrea De Marchi, passando per Enrico Chiesa, Efrem Calamati ed Enrico Del Prato, ed ancora Giacomo Corona, Alberto Polverosi e il castiglionese Gioele Meoni. Sono loro i dieci numero uno della settima edizione del Gran Galà dello Sport presentata nell'Aulamagna del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Qui siamo nel Tempio del Calcio, il Gran Galà non celebra solo il calcio, celebra lo sport in generale, celebra dieci personaggi ispirati a dieci discipline diverse che rappresentano un po' anche l'emblema della visione dello sport nella nostra città, ma direi anche una importante estrazione di quelle che sono le caratteristiche dello sport in Italia. L'appuntamento è per il prossimo 25 marzo al Teatro Spina, pronto ad accogliere le stelle dello sport appremiate per i valori che hanno sempre rappresentato dentro e fuori il campo da gioco. Il rispetto, l'eticità, il sapersi comportare, sapersi interfacciare con gli altri, cercando di essere i migliori, cercando di arrivare primi, di fare più gol, come si diceva, ma farlo con fair play. Novità dell'edizione di quest'anno, l'istituzione del premio giornalistico intitolato al ricordo del fiorentino Mario Sconcerti. Ad aggiudicarselo sarà il giornalista Alberto Polverosi. Questa è stata anche una precisa volontà della famiglia Sconcerti che ha individuato in questo giornalista il premiato di quest'anno.